Tutta cosa è politica, così la politica non va bene se batte con la via, deve battere la via dalla chiarezza. Io non sono come i cinque, noi non siamo come i cinque estremi che pensano, da sentire l'altro giorno sono andato a sentire il funerale, perché me l'ha capitato di conoscere, casaleggio, e diciamo che lui aveva inventato un po' di comunicare attraverso l'internet, così come noi attraverso il Cazdebo, quello più popolare. Di più, con noi avevo parlato una cosa, voi date grande peso a diciamo all'onestà, ma guardate che l'onestà viene talmente dopo un grande principio come la libertà, il primo valore, quello da mettere davanti a tutela, la libertà. Poi, poi certo l'unità, però faccio un esempio, c'è un imprenditore, per essere onesto fino in fondo, paga tutte le tasse fino all'ultima lira, ebbene, rischia di dare i soldi, più soldi e più forti a uno Stato che poi li utilizza contro di lui, contro la sua gente, questo non va mica tanto bene. Il primo valore è la libertà, poi l'onestà, voi invece invertite l'ordine degli addini, prima l'onestà e poi forse mai la libertà, così il conto non torna.